Dialoghi pubblica amministrazione è un format originale per ragionare su come la pubblica amministrazione può essere un volano di crescita per il nostro Paese. La combinazione di PIA e di infrastrutture sono veramente i due cantieri di riferimento che possono fare svoltare il Paese verso una crescita strutturale e sostenibile che non abbiamo mai avuto in precedenza. La mia idea è che c'è molto da fare, c'è molto da lavorare, c'è molto terreno da recuperare ma c'è un grandissimo, un enorme potenziale che possiamo sviluppare. Quindi io sostanzialmente mi sento ottimista guardando al futuro. Grazie a tutti. Il governo con il nuovo codice degli appalti vuole semplificare il pre-commitment, semplificare le norme, le autorizzazioni, velocizzare i processi. Un'opera deve essere fatta in tempi certi, velocemente e di buona qualità. Un'opera deve essere fatta in tempi certi, velocemente e di buona qualità. Grazie. 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 Grazie.